Buongiorno, qui alle mie spalle potete vedere una rappresentazione di Escher della geometria sviluppata dal geometra italiano Beltrani. Questa immagine ci introduce al tema che vogliamo trattare e che, per così dire, tratteremo all'interno di un ciclo di tre lezioni, che riguardano appunto le geometrie non euclidee. Le geometrie non euclidee hanno un'importanza fondamentale per la riflessione filosofica e per lo sviluppo del pensiero scientifico occidentale, ma vedremo che in realtà la loro storia è abbastanza lunga, è abbastanza lunga e noi ovviamente cercheremo, come al solito, di fare questa trattazione dal punto di vista storico, cercando di evitare i tecnicismi che lasciamo, per così dire, agli addetti ai lavori della matematica e della geometria, per vedere proprio le implicazioni con la filosofia e con la scienza occidentale. Quindi cerchiamo di andare all'origine, intanto, di questo problema e per far ciò non possiamo fare a meno di partire proprio dalla definizione, dal concetto, anzi meglio, di geometria euclidea. Cosa si intende per geometria euclidea? Per geometria euclidea noi intendiamo più o meno quella geometria che si ricava direttamente dal compendio di matematica gli elementi composto da euclide intorno al 300 a.C. ad Alessandria X. La geometria presente però nel trattato di euclide tratta esclusivamente una geometria in particolare, ovvero quella che può essere costruita attraverso l'utilizzo della riga e del compasso. Ma ovviamente si sapeva già all'epoca di euclide, euclide stesso lo sapeva, quindi fa una scelta, diremmo noi, filosofica, quella di inserire come geometria di serie A esclusivamente quella che si costruisce con righe e col compasso. Ma già all'epoca appunto si conosceva una geometria differente. Questa geometria era la geometria delle cosiddette sezioni coniche. Menecmo, che era un matematico dell'Accademia, aveva già individuato parabole, ellissi e iperbole, che però come vedete non si costruiscono con una riga e un compasso, ma appunto si costruiscono facendo delle sezioni, cioè tagliando con dei piani una figura geometrica particolare che è il cono. Abbiamo visto poi che il grande studioso delle sezioni coniche sarà Apollonio, ma già lo stesso euclide aveva fatto un'opera a parte dove aveva trattato appunto la geometria delle coniche, un'opera che però è andata perduta. Quindi questa geometria non euclidea da un certo punto di vista, come vedete, addirittura in realtà, se proprio si volesse essere precisi, dovremmo dire che addirittura riguarda in un certo senso anche quelle parti secondarie della matematica che sono appunto le sezioni coniche. Ma su questo non entriamo nel dibattito, perché noi ovviamente per geometria non euclidea intendiamo altro. Euclide che cosa aveva fatto nella sua opera, nella sua monumentale opera dove aveva, per così dire, raccolto più che inventato la geometria, aveva raccolto più o meno tutti quelli che erano i contributi matematico-geometrici dell'epoca. Aveva iniziato ricopiando, o meglio, riscrivendo più o meno bene i cinque libri del grande matematico Ippocrate, si era poi avvalso di tutti i contributi che evidentemente erano giunti a lui dai matematici dell'Accademia, e però aveva voluto fare qualcosa di più, cioè aveva inteso fondare tutti questi contributi, tutte queste conoscenze, su alcune definizioni, alcune nozioni comuni e alcuni postulati. E questo, come dire, l'abbiamo visto parlando di Euclide, diventò un po' il modello dimostrativo per eccellenza, cioè il modello attraverso il quale si poteva effettivamente procedere dimostrativamente nel far valere una propria tesi, una propria argomentazione. Un modello che fu copiato anche, diciamo, da argomentazioni non propriamente scientifico-matematiche, ma addirittura da argomentazioni tipo, oggi diremmo noi, morale-etico, basta pensare appunto alla famosa etica di Spinoza. E tutti si rifaranno in un certo qual modo al modello degli elementi di Euclide, anche in epoca moderna, basta pensare ovviamente ai principi a matematica di Isaac Newton, e quindi, come vedete, ecco che abbiamo già fatto una serie di esempi in cui il modello Euclidea diventa effettivamente un modello basso, per cui dire ovviamente che ci sono delle geometrie non Euclidee non scalza assolutamente Euclide dal suo trono. Ma ripartiamo appunto da questi postulati e queste nozioni comuni che sono alla base della geometria Euclidea. Lasciamo perdere per adesso le definizioni, o meglio vi rimandiamo alla lezione in cui abbiamo parlato di Euclide, e in realtà lasciamo perdere anche le nozioni comuni, che io qui vi ho riportato per appunto far vedere che cosa si intende, per non confonderle appunto con i postulati. Nozioni comuni come per esempio cose uguali a una medesima cosa sono anche uguali tra loro. Se cose uguali vengono aggiunte a cose uguali, gli interi sono uguali, e così via. Se cose uguali vengono sottratte da cose uguali, i resti sono uguali. È vero, l'intero è maggiore della parte, e così via. Trovate appunto nella storia della matematica del Boyer queste cose. Ma torniamo piuttosto al concetto di postulato e a quali sono i postulati fondamentali dell'opera di Euclide. Intanto diciamo subito che come postulato intendiamo qualche cosa che viene preso per vero, è qualche cosa che non necessita di essere dimostrato, è qualche cosa che viene assunto come tale e che in un certo senso gode di una certa, diremmo noi, evidenza. Anche se vedremo che in realtà poi le cose sono un pochino più complicate. Un conto è l'evidenza delle nozioni comuni, un conto è l'evidenza dei postulati che sono invece, per così dire, un po' degli assunti, dei principi sui quali fondare qualcosa che noi in un certo senso prendiamo, vedremo arbitrariamente. Abbiamo una versione dei cinque postulati Euclidei, la versione è quella formulata dal matematico rinascimentale Niccolò Tartaglia e li vediamo nell'ordine. Allora, il primo di questi postulati è tra due punti, qualsiasi è possibile tracciare, una è una sola retta ed è questo qua, e qui li dobbiamo ripassare perché ci servono per queste lezioni. Il secondo postulato ci dice che la linea retta si può prolungare in modo indefinito. Vedete che qui il termine infinito, come al solito, cercavano quando potevano di commutarlo in qualche cosa di analogo, ma di non utilizzarlo. Dato un punto e una lunghezza è possibile descrivere un cerchio, ancora tutti gli angoli retti sono uguali, e poi ecco che andiamo al quinto postulato di Euclide. Quinto postulato di Euclide è che noi ora qui presentiamo in due versioni differenti, una che è l'originale e l'altra perché ci è più familiare, per così dire, che è quella che abbiamo imparato a scuola. La versione, diciamo, più propriamente Euclidea è questa. Due rette tagliate da una trasversale si incontrano, due rette sono queste, quando vengono tagliate da una trasversale, si incontrano in un punto posto dalla parte in cui la trasversale forma due angoli interni, che sono questi due, la cui somma è minore di un angolo piatto, cioè minore di 180 gradi. Cosa significa? Significa che se questi due angoli, invece, avessero tra loro formato un angolo piatto, 180 gradi, e quindi sarebbero stati due angoli, diremmo noi, di 90 gradi, beh, allora queste due rette non si sarebbero incontrate. Alias, in altro modo, potremmo dire che una delle due rette, mettiamo la prima, giace su un qualsiasi punto esterno alla retta data, e quella retta lì è l'unica parallela che può passare da quel punto. E questa è la sioma delle parallele, che come vedete è un corollario, cioè segue dalla sioma Euclidea, ed è quello che abbiamo studiato a scuola. Per un punto esterno a una retta, passa una e una sola parallela alla retta data. Questo, appunto, in realtà non lo ha scritto Euclidea, è una sioma formulata da John Pleifer nel 1795, che noi tutti, appunto, abbiamo studiato al posto del quinto postulato Euclidea, e ve l'abbiamo, come dire, illustrato proprio per riallacciarsi a quelle che sono le nostre conoscenze scolastiche. Bene, tuttavia, diremmo noi, già i Greci si erano accorti che non c'era soltanto la geometria di Euclide. No, non c'era soltanto la geometria Euclidea, Euclidea, o meglio, la geometria Euclidea veniva considerata, per così dire, la geometria per eccellenza, ma c'erano anche altre forme di geometria dove, evidentemente, questi postulati evalevano fino a un certo punto. In particolar modo c'era la geometria sferica. Anche la geometria sferica, così come la geometria delle sezioni iconiche, veniva considerata però una scienza tecnica, diremmo noi, e non vera e propria geometria collegata alla matematica. Vi ricorderete che per gli antichi si parla di aritmogeometria, cioè aritmetica e geometria, come di qualche cosa di strettamente collegato tra loro, questo soprattutto in virtù della filosofia pitagorica. E vediamo come erano arrivati i Greci alla geometria sferica. Beh, innanzitutto ci erano arrivati per problemi di tipo geometrico e astronomico. Infatti i Greci ben sapevano che la terra era sferica, o meglio, che era tomba. E questo era, come dire, una conoscenza, diremmo noi, comune per l'epoca, a differenza, a dispetto di quello che si usa immaginare, cioè che la sfericità della terra sia una conquista della scienza moderna, in realtà era una conquista degli antichi. Era una conquista degli antichi che aveva, diciamo, trovato il suo acme, il suo punto più alto in uno dei grandi direttori del museo e della biblioteca di Alessandria, che era appunto stato Eratostene, il quale Eratostene aveva addirittura calcolato la grandezza della terra con un piccolissimo margine di errore. Noi abbiamo trattato questo argomento parlando proprio di Eratostene e qui vediamo l'immagine che rappresenta proprio come Eratostene aveva calcolato queste dimensioni. Lui aveva un pozzo a Swan, a Sien, dove sapeva che i raggi del sole a un certo punto arrivavano allo Zen, cioè precisamente perpendicolari, quindi andavano, come dire, a costruire un angolo piatto, scusate, due angoli a 90 gradi. Bene, cosa fece? Calcolò la differenza che c'era tra questi raggi che arrivavano a Swan, questo pozzo che adesso non c'è più perché è stato, come dire, allagato dalla diga di Aswan, e i raggi che arrivavano invece ad Alessandria, quindi questa discrepanza in termini di gradi, assumendo la Terra come una sfera, il cui angolo giro ovviamente è per 160 gradi, beh, si andava a calcolare la differenza e poi che cosa si faceva? Misurando la distanza che c'era tra Alessandria e Aswan, cosa che lui fece come un cammello, perché appunto i cammelli erano abbastanza regolari nel percorrere certe distanze in certi tempi e quindi si poteva, per così dire, misurare questa distanza, beh, lo moltiplicava per questa differenza dell'angolo e otteneva così la circonferenza terrestre e lo fece con un margine di errore appunto estremamente basso per quelli che oggi sono i nostri standard e tra l'altro è significativo che queste misure si siano appunto tramandate, siano arrivate fino a noi e possiamo attraverso soprattutto gli ingegneri latini e romani ricostruire come Eratostene fece queste misurazioni. Ma come si era accorto Eratostene e gli altri greci che la terra era sferica? Beh, c'erano state, come dire, molteplici osservazioni che li avevano indotti a pensare a questa cosa. Per esempio, che le navi all'orizzonte si vedono prima gli alberi e poi si vede lo scafo. Questo è un esperimento che noi tutti possiamo fare. Quando vediamo qualcosa in lontananza prima vediamo l'albero, appena appena, poi un po' più grande, un po' più grande, poi piano piano vediamo apparire lo scafo sempre di più fino alla barca nella sua completezza. E questo già ci stava a mostrare che c'era evidentemente una superficie. Poi ovviamente c'erano altri indizi. Per esempio, si erano accorti che se si spostavano dalle Greci all'Egitto cambiava l'altitudine, cioè cambiavano, mutavano le costellazioni in cielo, si spostavano di qualche grado. E poi ovviamente la cosa più affascinante era la famosa eclissi parziale di Luna e l'ombra della Terra proiettata sulla Luna era appunto una curva e quindi non c'era, come dire, sorta di dubbio. Non c'erano dubbi sulla sfericità della Terra. E poi, per motivi di analogia, gli antichi pensavano che oltre alla Terra fosse anche l'universo, il cosmo sferico. E quindi tutti questi corpi celesti addirittura si dovessero muovere su delle sfere matematiche o fisiche che fossero. E abbiamo, come dire, parlato di questo a proposito di Aristotele, con le sfere cristalline, ma prima di lui appunto dei matematici degli accademi come Eudosso. E fu proprio questo che spinse, per così dire, gli antichi a costruire una geometria sferica. Una geometria sferica che gli permettesse di descrivere, in un certo modo, la geografia terrestre e la fisica celeste. Chi vuoi il primo matematico a cimentarsi con queste forme, con questa geometria particolare? Beh, fu il matematico Menelao. Matematico Menelao che scrisse quest'opera, la sferica, dove tra le altre cose individuò quello che per noi è scontato, ma tanto scontato non è, individuò quello che su una sfera corrisponde al segmento, ovvero alla retta, nel piano Euclideo. E come vedete, il segmento, la retta che corrisponde sulla superficie della sfera al piano Euclideo ha delle caratteristiche ben diverse. Intanto, evidentemente, non segue un'andatura lettilinea, perché per così dire uscirebbe via dalla superficie della sfera. E poi, come si può ben vedere, non può essere prolungato indefinitivamente. Perché? Perché il massimo che si può fare è, appunto, un cerchio massimo, cioè è fare tutto il giro. E poi ci, per così dire, ritroviamo, punto, E, H. E vediamo, infatti, quali sono le circostanze, quali sono le conseguenze dal punto di vista dei postulati Euclidei. Rispetto alla geometria del piano Euclideo, ecco che gli assiomi devono essere rivisti. Il primo postulato si vede, chiaramente, in una sfera che per due punti passano infinite rette e non una retta sola. Quindi, vi ricordate il primo postulato di cui abbiamo messo in evidenza precedentemente le caratteristiche? Abbiamo visto che da due punti passa una e una sola retta. Quindi, invece, vedete che da due punti basta prendere il polo nord e il polo sud, per esempio, di un pallone, beh, passano infinite rette. Guardate qui quante se ne può disegnare, che poi, appunto, sono, in un certo senso, i nostri meridiani. Per quanto riguarda il secondo postulato, sulla superficie di una sfera, i segmenti non possono essere stesi all'infinito, come sul piano, ma hanno un limite che corrisponde al cerchio massimo, e questo, appunto, lo abbiamo visto nella rappresentazione del matematico Menelao, e abbiamo, appunto, notato che il massimo che possiamo fare è tutto il giro. Il terzo postulato, invece, trova corrispondenza nelle due geometrie, quella euclidea e quella sferica, perché rispetto alla geometria sferica, ecco che noi possiamo costruire un secco di cerchi, dato un punto e una distanza, e questi cerchi vanno, per così dire, a identificare i paralleli, quelli che, sul nostro globo, noi rappresentiamo come paralleli. Qui abbiamo, un'altra volta, un'immagine, vedete, immaginate che questo sia il compasso, io adesso non ho il compasso in mano, questo è un punto, questa è la prima distanza, questa è la seconda, questa è la terza, e così, così via. Per quanto riguarda il quarto postulato, anch'esso è invariante, cioè gli angoli retti continuano ad essere retti, tutti uguali, il quinto postulato, invece, si vede chiaramente che non è valido, perché, appunto, sulla superficie di una sfera tutte le rette si incontrano in almeno due punti, e non esistono rette parallele, cioè è impossibile se voi prendete un pallone e, ovviamente, disegnate quelle che oggi noi chiameremo geodesie, ma che ora, in modo semplificato, chiamiamo rette, le rette, appunto, così come Menelao ce le ha mostrate correttamente su un pallone, ebbè, non è possibile che siano parallele tra loro, perché sennò disegniamo dei cerchi, che sono i paralleli, ma quelli non sono rette, attenzione, lo abbiamo detto prima, beh, se noi andiamo a disegnare le rette, beh, e succede che queste, e vuoi o non vuoi, che corrispondono, appunto, ai cerchi massimi, ai meridiani, se così vogliamo, beh, e si incontrano sempre in due punti, si incontrano sempre in due punti, si intersecano sempre in due punti, quindi non esistono rette parallele nella geometria sferica. Voi direte, beh, allora la geometria non euclidea nasce nell'epoca antica, o quantomeno nell'epoca tardantica, beh, non possiamo dire proprio questa cosa. Perché? Ma perché in epoca antica questa geometria sferica non era considerata una vera e propria geometria, così come le sezioni coniche studiate da Euclide e da Apollonio e da Menekmo non venivano considerate vere e proprie a geometria, ma piuttosto delle tecniche per risolvere dei problemi particolari. Quando è che le cose iniziarono, per così dire, un po' a mutare? innanzitutto questo discorso sulla geometria riprese con ampia vastità e interesse a partire dalla rivoluzione scientifica. E soprattutto durante la rivoluzione scientifica iniziò lo studio di tutte quelle curve che appunto erano irregolari, cioè quelle che non si costruivano con il compasso. E proprio, basti pensare ai primi anni del Seicento, è proprio Keplero che estendendo, per così dire, la visione delle curve, beh, riuscirà a mostrare che le orbite planetarie sono degli ellissi e non dei certi, ma appunto le ellissi sono sezioni coniche e stravolgerà, per così dire, il paradigma del mondo antico che voleva che i pianeti si muovessero per forza di moto circolare, perché? Ma perché il moto circolare era, per così dire, congruo con la geometria euclidea, era quello che veniva considerato perfetto e tutto il resto, e qui Keplero invece dovrebbe fare uno sforzo anche filosofico, paradigmatico, a convincere in modo che in realtà ancora più che quello circolare, poi quello ellittico, sarebbe stato completo. Il primo a cimentarsi nell'analisi matematica delle curve prodotte dalle coliche fu Cartesio, con la sua geometria analitica, che fece un'importante classificazione, e poi Newton, che fece una classificazione ancora più accurata, ma ovviamente questi sono soltanto quelli più famosi. E a partire da questi studi nacquero delle figure particolari. Tra queste figure particolari merita, perché poi ci servirà in futuro, merita di essere osservata la pseudosfera. Cos'è la pseudosfera? La pseudosfera è una figura particolare, come vedete, e si costruisce a partire da una trattrice, cioè questa curva, scusate, che rimanda alla sua, ecco vediamo se si vede meglio così, la trattrice, questa curva qua, che rimanda ad un'iperbole, intorno al suo asintoto. E quindi si fa ruotare, scusate, di qua, su se stessa. Rispetto a figure come queste, i matematici si chiedevano se si potesse usare la geometria euclidea, oppure quella sferica, con cui avevano, per così dire, alcune cose in comune, ma non tutte. A partire proprio dalla curvatura, infatti come si vede nella pseudosfera, non a caso pseudo, che vuol dire finta, falsa, e non abbiamo una curvatura costante. La curvatura costante della sfera è garantita dal, diremo noi, se così si vuol dire, dal pi greco, dal rapporto che c'è tra il raggio e la circonferenza, ma la pseudosfera appunto ha un andamento completamente diverso, per cui ha delle cose in comune con la geometria sferica, ma non può essere trattata con la geometria sferica. Inoltre, mentre la curva di una sfera è positiva, beh, quella della pseudosfera è negativa, ovvero conversa, cioè verso l'interno e non verso l'interno. Tuttavia la storia della genesi delle geometrie non euclidee non trova appunto i suoi veri fondatori in questi studi. Cioè non si aggancia propriamente agli studi caratteristici dei pensatori della rivoluzione astronomica e scientifica, ma riguardano un altro aspetto, l'aspetto della legittimità del quinto postulato euclideo. Com'è il quinto postulato che aveva? Eh sì, il quinto postulato. Perché? È vero, anche altri abbiamo visto postulati non reggevano, diciamo, alla geometria sferica, ma il quinto postulato aveva un che, diremmo noi, aveva un che di sospetto fin dai tempi di Euclide. Euclide aveva mostrato già lui diffidenza, infatti l'aveva ammesso per ultimo. Perché? Perché non gli sembrava così intuitivo, sembrava più un teorema, sembrava più qualche cosa che in un certo senso dovesse essere dimostrato. E effettivamente tantissimi, diciamo, autori proveranno a dimostrare questo quinto postulato, peraltro tutti senza riuscirci. Ma ovviamente è un postulato fondamentale del quale non si può fare a meno, e per questo Euclide lo inserì. Basti pensare al celebre teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora senza il quinto postulato non è dimostrabile. Malgrado gli insuccessi, i tentativi di dimostrare questo quinto postulato continuarono nei secoli, continuarono nei secoli, nei secoli, nei secoli, fino ad arrivare a, diremmo noi, al periodo della scoppio della rivoluzione scientifica, e in particolar modo i due tentativi particolarmente interessanti furono fatti dal gesuita Girolamo Saccheri e quelli di Eric Lambert. Come vedete siamo già arrivati di fatto al 1700, non bisogna però pensare che dai tempi di Euclide non ci siano stati tentativi, ce ne sono stati tantissimi, ma sono stati più o meno poi tutti fallimentari. Cioè, mentre si dimostrava, si cercava di ricavare il quinto postulato dagli altri, bene o male, poi alla fine la dimostrazione si concludeva facendo poi riferimento al quinto postulato stesso. Iniziamo però appunto a vedere questi due tentativi che invece furono proprio quelli a seminare, per così dire, l'idea della geometria non Euclidea. In particolar modo appunto il matematico Saccheri dell'Università di Pavia scrisse un trattato, Euclidea liberato da ogni macchia. Qual era la macchia? La macchia era questo quinto postulato che non sembrava così evidente. Euclidea od ovini nievo vendicato, dove tentò appunto di dimostrare il quinto postulato avvalendosi della dimostrazione per assurdo. Noi conosciamo questo termine, dimostrazione per assurdo, dimostrare che la negazione del quinto postulato porta a un assurdo e dunque postulato. E' vero, abbiamo già visto la dimostrazione per assurdo, fin dall'antichità utilizzata da Zenone per, diciamo, confermare la teoria parmenidea. Da principio costruì una figura, una figura particolare. Partì da un segmento a B, eccolo qua, tracciò due perpendicolari, quindi che alla base andavano a formare due angoli retti, e poi tracciò il segmento che univa le due perpendicolari, che è questo. A questo punto si chiede, i due angoli, cioè questo e quest'altro, che ne risultano? Sono essi stessi retti? Cioè hanno 90 gradi? Voi direte, sì, si vede anche ad occhio. E certo, ma era proprio quello che questi matematici volevano superare, cioè andare oltre al si vede anche ad occhio, cioè volevano avere proprio la dimostrazione di questa cosa. Come si vince dalla figura, le possibilità che possiamo prendere in esame, a proposito degli angoli, sono tre. La prima è che gli angoli siano retti, quindi che questi siano retti. La seconda è che gli angoli siano acuti, quindi siano minori. La terza è che gli angoli siano ottusi, e quindi siano maggiori di 90 gradi. Per quanto riguarda l'ipotesi degli angoli ottusi, cioè questa qua, Saccheri la confutò assumendo per vero che una retta dovesse avere per forza lunghezza infinita. Cioè appellandosi al secondo postulato Euclideo, che però abbiamo visto in realtà non è un grande stratagemma, perché il secondo postulato Euclideo già non valeva, per esempio nel caso della geometria sferica. Però a lui sembrò sufficiente per confutarla nella geometria del piano. Per quanto riguarda invece l'ipotesi degli angoli acuti, cioè questo qua, ebbè, egli derivò diversi teoremi. Cioè riuscì a costruire diverse dimostrazioni su una geometria dove effettivamente, data quella conformazione, però si aveva una curvatura, una curvatura diremmo noi proprio simile a quella della pseudosfera. E non riuscì a trovare una contraddizione matematica che inficiasse quella opzione. E dunque a un certo punto iniziò a scrivere un ragionamento, oggi diremmo noi filosofico più che matematico, e sentenziò l'ipotesi dell'angolo acuto è assolutamente falsa. Essa infatti ripugna la natura della linea retta. Ma questa ovviamente non è una dimostrazione. Tuttavia lui, convinto da questa, come dire, contrarietà di natura della linea retta, affermò l'impossibilità delle due opzioni. E quindi non rimaneva che sostenere che gli angoli che si formavano erano retti, e che quindi il quinto postulato di Ocline era dimostrato. Bisogna subito dire che Saccheri stesso era consapevole del fallimento della sua opera, sua opera che di fatto verrà stampata nell'anno della morte di Saccheri, e quindi evidentemente Saccheri sapeva di non aver dimostrato, anche anzi forse sapeva di non aver dimostrato nulla. Tuttavia Saccheri fu anche sfortunato due volte, perché oltre ad aver fallito, non riconobbe mai la validità dei teoremi che aveva egli stesso ricavato dall'opzione appunto dell'angolo attuto. E quindi non poteva neanche vedersi riconosciuto il merito di essere precursore della geometria iperbolica, quella che appunto nascerà proprio dalla presa in carico di quella opzione della curvatura negativa. E vediamo un altro personaggio di cui abbiamo anche l'immagine, cosa che di Saccheri non è possibile, non so se c'è in qualche archivio ma non si trova a giro, che è appunto Lambert. Lambert invece, come dire, a differenza di Saccheri, pur partendo dallo stesso obiettivo, cioè quello di dimostrare il quinto postolato euclideo, beh, comprese che effettivamente era possibile una, diremmo noi, una geometria non euclidea. Anche lui ovviamente si mise come Saccheri a dimostrare il quinto postolato e non ci riuscì. Ma non negò del tutto la possibilità dell'esistenza appunto di una geometria coerente non euclidea. E scrisse, nella sua opera, mi sembra notevole che l'ipotesi dell'angolo ottuso sia valida se invece di un triangolo piano consideriamo un triangolo sferico, poiché la somma dei suoi angoli è maggiore di 180 gradi. Eh sì, questa vediamo in una delle considerazioni che possiamo fare già anticipando la geometria non euclidea, vedendo che se io vado a disegnare un triangolo, una delle considerazioni che possiamo fare, un triangolo su una superficie sferica non ha il limite dei 180 gradi come somma interna degli angoli. Noi sappiamo che questa è una delle regole fondamentali, la somma degli angoli interi di un triangolo è sempre 180 gradi, ma questo vale sul piano euclidea. Qui invece, come si vede, chiaramente io posso costruire un triangolo che ha due angoli retti alla base e quindi già 180 l'ho fatto qui, qualsiasi sia l'ampiezza di questo è già superata, come dire, quel vincolo, quel limite che invece c'è nella geometria euclidea. Riprendendo dunque il lavoro di Menelao sulla geometria sferica, Lamberto immaginò che l'ipotesi dell'angolo acuto poteva corrispondere a una geometria su una superficie di tipo nuovo, come quella di una sfera di raggio immaginario. Quindi non solo, come dire, comprendere che si poteva in qualche modo sfruttare la geometria sferica per immaginare una nuova geometria con le caratteristiche di qui sopra, ma addirittura che l'ipotesi dell'angolo acuto in realtà avesse delle caratteristiche ancora diverse, ancora più nuove quelle appunto della pseudosfera che veniva costruita sull'angolo immaginario. Questa è una cosa un po' complicata matematicamente, perché appunto immaginare e operare su una sfera con uno pseudoraggio, cioè un raggio che si, come dice, si compone di una radice quadrata di un numero negativo, inventati già per risolvere alcuni problemi matematici da Cardano, Gerolomo Cardano, quindi cosa già complessa dal punto di vista algebrico, immaginate dal punto di vista matematico, la radice di meno 1, qualcosa che oggi diremmo non può esistere, invece appunto i matematici bene sanno che cos'è i, il numero immaginario, beh così però facendo avviò proprio gli studi sulla curvatura negativa, studi sulla curvatura negativa che poi sarebbero quelli che oggi chiameremmo geometria iperbolica, quindi mentre Saccheri diciamo si arenò, pur portando un contributo fondamentale, perché poi l'opera di Saccheri circolò, Lambert stesso la prese tra le mani, beh lui non giunse a particolari considerazioni e non ricevette particolari riconoscimenti, invece Lambert si spinse effettivamente abbastanza in là per poter immaginare altre geometrie. E questo lo portò addirittura a creare alcuni dei primissimi teoremi di geometria iperbolica, certo non fu lui a battezzare questa geometria, però costruì per esempio alcuni di questi teoremi tra cui come si calcola l'area di un triangolo su una superficie a curvatura negativa, conoscendo l'ampiezza dei suoi angoli, ecco che qui troviamo la formula, la formula di Lambert che è appunto pi greco meno alfa più beta più eta che sono appunto i tre angoli uguali ci dà l'area. Quindi come vedete l'area si costruisce proprio a partire dall'ampiezza degli angoli. Qui vediamo un'immagine, un'immagine che ci permette di comprendere quanto abbiamo detto, qui vediamo l'ampiezza degli angoli che ci permette effettivamente di calcolare l'area. Sappiamo che questo per esempio non avviene in una superficie euclidea, perché in una superficie euclidea io posso ingrandire quanto voglio un triangolo mantenendo ovviamente, quindi l'area di un triangolo mantenendo invariate le dimensioni degli angoli. Invece nelle geometrie a curvatura negativa questo non è affatto possibile, cioè se io cambio gli angoli cambio immediatamente l'area del triangolo. Bene, e appunto proprio per questi contributi Lambert sarà per così dire determinante per gli autori e per i fondatori delle geometrie non euclidee. Grazie, ci lasciamo alla prossima lezione con uno dei più grandi personaggi vissuti diciamo a cavallo tra 7 e 800.